Ha portato a controllare una donna di 22 anni di origine pedicante ligeriana segnalata dei calenti droga nonostante non avesse con sé sostanza stupefacente ma evidentemente l'odore l'aveva pedicante intriso, pedicante vestiti. La donna è stata controllata e sono state trovate sulla sua persona ben 34 mila euro di denaro contante di cui lei non è stata assolutamente in grado di provare pedicante alla provenienza. Dai controlli poi la donna è risultata nulla tenente. Da qui sono partite le indagini delle fiamme gialle di Padova che hanno portato all'arresto di 9 persone, un albanese e 8 nigeriani il sequestro di 45 kg di marijuana e 63 mila euro in contanti. La droga sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio un valore di oltre 300 mila euro. La banda operava tra i comuni di Rubano e Selvazzano dove avevano depositi e la zona della stazione dove i delinquenti spacciavano. Uno degli arrestati oltre a occuparsi di trasportare la droga dalla stazione ai depositi forniva servizi di taxi abusivo, fenomeno già rilevato nella zona della stazione. Uno di questi nigeriani si prestava per se stesso, per i suoi interessi e per gli interessi degli altri soggetti del gruppo criminale a portare pedicante o altri trafficanti o altri spacciatori nei luoghi convenuti per i loro appuntamenti.